Ciao ragazzi sono Carlo De Lucis e benvenuti a questo nuovo video Oggi sono di nuovo a Torino e anche oggi sarà una giornata speciale o meglio rumorosa Infatti Marchettino ha montato l'Armitrix sotto al GTR Illegalità totale L'installazione è stata affidata a Nissan Auto Uno dei pochi concessionari in Italia autorizzati a trattare la Nissan GTR No More than 3 ore And we go Aspetta Anche 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 Questo è il piatto ma credo che i valli sono ancora neanche Forse adesso le valvole sono ancora chiuse Quindi c'è posto che il suono sia addirittura più loud con le valvole aperte Tanta roba Ok, lo scherchio era chiuso Valvole chiuse Valvole Ormai le 6 e mezza e l'officina sta per chiudere E anche se sembra che la macchina sia praticamente pronta Ci sono ancora un sacco di pezzi del sottoscocca da installare Quindi purtroppo la macchina adesso la lasciamo qua E forse torneremo, sicuramente Marco io non lo so Torneremo domani mattina per vedere il lavoro completato e liberato Grazie a tutti Il video di oggi si conclude qui quindi Purtroppo è andata così con queste macchine Il montaggio di uno scarico è sempre una cosa lunga Io spero che il video vi sia piaciuto comunque Restate sintonizzati per le prossime avventure Ciao ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti